Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Tuccio della PS Genovese Zenzero. L'incontro di questa sera si inserisce nelle conversazioni sulla transizione ecologica che dal 21 Zenzero organizza insieme al Coistituto di Reggio Emilia Genova, come sempre in presenza allo Zenzero e online su YouTube. Sul sito dello Zenzero potete trovare tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, le varie conferenze che sono state organizzate e cliccando sull'apposito link a fianco a ogni nome potete avere l'informazione sulla relativa conferenza, sul relatore e il link per rivedere la registrazione su YouTube. Per qualche conferenza è stata anche inserita un minimo di bibliografia. L'incontro di questa sera punta soprattutto sul nucleare. L'incontro di questa sera, che fa parte di un ciclo di tre conferenze, è puntato sul nucleare. Perché è nucleare adesso? Perché da un po' di tempo si riparla di nucleare. E naturalmente il nucleare dà fissione, cioè spaccare l'atomo per ricavare energia con relativa produzione di una grande quantità di materiali di scarto altamente radiattivo, le famose scorie che nessuno sa bene di cosa farne. Fissione perché la fusione per il momento continua a restare una chimera. di cui si parla tanto, ma si concretizza poco. Diciamo che si è ricominciato a parlare di nucleare. Si è parlato di nucleare l'anno scorso, quando l'Europa ha inserito il nucleare nella tassonomia europea, cioè nell'elenco delle attività considerate sostenibili dal punto di vista ambientale e che possono essere finanziate. Si è parlato di nucleare dopo la recente COP28, perché il nucleare è stato inserito nel mix energetico che ci permetterà di consumare tutta l'energia elettrica di cui avremo bisogno, eliminando senza bisogno dei combustibili fossili. In questo contesto si inserisce il film di Oliver Stone. Prodotto e distribuito alla fine del 23, un documentario propagandistico che illustra le magnifiche sorti del nucleare. Nella locandina diamo i riferimenti utili per chi non l'avesse visto, peraltro noi ne consigliamo vivamente la visione affiancandola a questi incontri. Diamo i riferimenti per chi non l'avesse visto per ritrovarlo sul canale della sette. Con questo ciclo di incontri abbiamo invitato tre esperti per cercare di analizzare le magnifiche sorti e non cadere nell'inganno. Cominciamo questa sera con Nicola Arbaroli, chimico, già noto in queste conferenze, che ringrazio peraltro per aver accettato il nostro invito. Chimico, dicevo, direttore di ricerca del CNR, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, direttore della rivista Sapere. Prima di passare la parola a Federico di Ecoistituto, che avvierà la conversazione dal Circolo Zenzoro, vi ricordo che per la discussione finale preferiamo che scriviate le domande in chat e vi invito a chiudere i microfoni e, se possibile, anche il video, perché il segnale non è potentissimo. Grazie per la partecipazione e a te Federico. Bene, grazie Armando di essere venuto. Il ringraziamento è ancora più forte perché so che tu di quest'argomento non ti piace molto. Nel tuo ultimo editoriale su Sapere scrivi espressamente che del nucleare è un argomento di cui parlo malvolentieri. Io vorrei cominciare di qui. Perché questa cosa, questa tua, come dire, disaffezione a quest'argomento? Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per l'invito. Dunque, è un argomento che io mi occupo di energia da quasi 25 anni ed è un argomento che è un po' carsico, no? Scompare, poi ricompare, scompare, poi ricompare. E l'effetto ormai di questi andamenti carsici è che ci sollevano un polvero o una montagna di chiacchiere per non arrivare mai a nulla. E lo si sa già in partenza che il nucleare in Italia non si farà. Però ogni tanto piace tirar fuori questa, che potremmo definire un po' un'arma di distrazione di massa. E quindi ne parlo malvolentieri perché in realtà serve molto a suscitare focose discussioni, animate discussioni. Talvolta arrivo a dire violenti discussioni. Io ne so qualcosa perché sui social, quando raramente appunto, come ho scritto in editoriale, scrivo un po' sul nucleare, arrivano le frotte di quelli che, a parte diciamo quelli maleducati, quelli che poi banni perché non li puoi tollerare, perché sono offensivi, eccetera. Però appunto c'è questa schiera di persone che è a caccia di tutti gli eretici che dicono qualcosa contro il nucleare, che è una cosa un po' ridicola. E quindi dopo il dibattito si va a incanalare sempre sulla stessa strada, da ormai decenni parliamo di nucleare, da 70 anni, e ormai non c'è più niente da dire sugli aspetti positivi e negativi di questa tecnologia. Quindi la trovo una discussione essenzialmente inutile di una tecnologia vecchia, destinata ormai in crisi irreversibile, nonostante il film di Oliver Stone che ho visto ieri sera e l'ho trovato in alcuni tratti anche un po' stucchevole, di una tecnologia destinata a non avere un peso rilevante nella transizione energetica. E quindi ne parlo sostanzialmente malvolentieri. Però, siccome è un argomento che torna, parliamone, non c'è problema. Sì, noi pensavamo che questa potrebbe essere l'occasione, appunto sentendo te e anche gli altri due ospiti alle prossime puntate, che sia opportuno comunque in questo tema, che comunque lo vediamo, i mass media sono molto pieni di queste cose. L'ipotesi di un nucleare anche in Italia sta andando avanti. E vabbè, parliamone, perché è il caso di rinfrescaccio un po' le idee. Io volevo appunto partire dal fatto che l'Italia, ecco, diciamo, nel film di Oliver Stone, avrai notato anche tu, si accentua il tema del fatto che, sì, è vero, c'è stata una grande opposizione al nucleare, ma perché la gente non sapeva. Quindi la gente si è mossa, ha riempito le piazze, ha fatto cortei e quant'altro, perché sostanzialmente aveva paura. Cioè, ci sono stati due incidenti, due gravi incidenti, ma però, come dire, sostanzialmente il blocco del nucleare è stato fatto proprio sulla base della paura e dell'ignoranza. Ecco, io volevo che su queste cose una tua riflessione. Noi abbiamo avuto, perché in Italia abbiamo avuto due referendum, si sono espressi nel primo dell'87, 30 milioni di persone, complessivamente, nel secondo, nel 2011, 27 milioni di italiani che hanno espresso in maggioranza, si direbbe bulgara, insomma, nei tempi passati, contro l'idea di poter, come dire, rilanciare il nucleare in Italia. Questi referendum sono state anche l'occasione per approfondire una tematica sicuramente complessa. Quindi la gente che è andata a votare non è andata sul, almeno a mio avviso, poi volevo sentire cosa pensavi tu, sull'onda così della paura, c'è stato sicuramente quell'elemento, ma anche su, come dire, una formazione molto precisa e dettagliata che è stata fatta, per esempio, da Massimo Scalia e Gianni Mattioli, penso che anche colleghi, un fisice entrambi, se non ricordo male, che hanno, come dire, illustrato quali erano i motivi per cui non era il caso di andare avanti. Ecco, su questo aspetto qui del film come lo valuti? Quali sono le tue valutazioni su questo specifico argomento? Sì, il messaggio che dà il film è appunto, sì, il nucleare è stato rigettato perché la gente è molto ignorante e si lascia prendere dalla paura. Ecco, io credo che questa qui sia una delle grandi debolezze del nucleare, proprio la debolezza di fondo, cioè quella di scaricare sempre sugli altri le proprie debolezze. Cioè, se noi dopo 70 anni siamo ancora qui a discutere di nucleare, dopo 70 anni, e a chiederci se valga la pena farlo o non farlo, è mai possibile che la colpa sia degli ambientalisti, dei verdi, della gente ignorante, oppure questa tecnologia ha dei problemi di fondo irrisolti e che continuano ad essere un problema oggi? Perché questo è il punto che Oliver Stone trascura completamente. Cioè, ti sarà il posto il problema, essendo un grande regista, del perché negli Stati Uniti potenza nucleare numero uno, potenza industriale numero uno, potenza economica numero uno, c'è un reattore in costruzione. Cioè, secondo te, il punto è perché gli americani sono ignoranti e non lo vogliono e negli anni 70 Jane Fonda che si vede nel film e ha partito a protestare in piazza? Cioè, secondo te è quello il punto? Non puoi essere così superficiale dal pensare che il punto sia l'ignoranza delle persone. Detto questo, una critica che fu mossa a suo tempo dice che la gente non può decidere via referendum su queste cose, che può anche essere un ragionamento valido, però vale sempre. Cioè, tutte le volte che noi siamo andati a votare per un referendum, l'abbiamo fatto decine di volte, tant'è vero che ormai purtroppo le persone non vanno più a votare per il referendum e non si raggiunge più il quorum. L'ultimo è stato proprio quello sul nucleare. e sono sempre questioni giuridiche complicate e quindi il cittadino medio di per sé non è mai preparato a votare per un referendum, però questa è la democrazia, questo prevede la nostra Costituzione e il referendum fu fatto per abolire specifiche leggi in materia nucleare. Quindi è inutile che stiamo qui a lamentarsi del fatto che la gente era troppo ignorante, la gente è sempre ignorante mediamente per decidere su un referendum. Quindi o li facciamo sempre o non li facciamo mai. Quindi quei referendum hanno piena validità e il ministro almeno ha avuto l'onestà di Dio, almeno ha visto le sue dichiarazioni, che ha detto che se si dovesse decidere di riprendere il piano nucleare, prima bisogna ripassare da un referendum perché non si può far finta che quello ultimo, il secondo della serie, non sia mai esistito. Senti, il motivo era, nel film di Stones si accentua proprio il fatto che per esempio mentre la Germania ha rinunciato al nucleare e sta progressivamente spegnendo le proprie centrali, la Francia, che viene portata ad esempio, invece continua una strada che ha intrapreso. Ecco, ripeto, questa chiacchierata con te ci serve, tanto sicuramente se ne parlerà. Quindi è il caso appunto di andare a rivedere insieme questa trasmissione, appunto, eseguita in diretta, ma sarà poi registrata e quindi seguita anche da, mi ci auguriamo, molta altra gente desiderosa di approfondare il tema. Questa differenza tra Germania che abbandona il nucleare, Spagna che abbandona il nucleare e la Francia invece che decisamente va, che spiegazione ha? Qual è il motivo di fondo, secondo te, che spiega queste diverse scelte dei paesi dell'Europa? Parliamo adesso dei paesi europei, poi vediamo magari degli Stati Uniti. Allora, prima di entrare nel merito della questione vorrei sottolineare un fatto che questa divisione tra grandi paesi europei sul nucleare manifesta tutta la debolezza dell'Europa. Cioè noi non riusciamo a metterci d'accordo su niente, neanche sulla politica energetica. E il fatto di non avere una politica energetica comune, indipendentemente da come noi la pensiamo sul nucleare o su tutto il resto, è un problema. In Europa sono create due fazioni cappeggiate dai due principali paesi dell'Unione Europea, la Germania e la Francia, che sul nucleare, per ragioni storiche, hanno una storia completamente diversa. Il nucleare francese nacque a partire dagli anni Sessanta sulla spinta del fatto che la Francia, vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, tra i vincitori della Seconda Guerra Mondiale, anche se non tra i trionfatori, diciamo così, aveva la possibilità e il disegno di fare, perché lei era consentito, di mettere insieme un arsenale nucleare. E che l'arsenale nucleare possa di per sé portarsi dietro, come cascane, la creazione di una filiera civile, è perfettamente coerente. Quindi la Francia ha pensato bene, o male, dipende da qual è la nostra opinione, ma questa non ha importanza, ha pensato che diventando una potenza nucleare, mettendo insieme una filiera complicata e costosissima per avere portare nucleari, stormarie nucleari, bombe nucleari, potesse essere un'occasione per lanciare un piano per l'elettricità nucleare. Macron lo ha ammesso molto candidamente, non più tardi di due anni fa, che la filiera nucleare, militare e civile francese si regano a vicenda. Sono parte di un sistema complessivo. La Germania ha fatto centrali nucleari, non ha armi nucleari per ragioni storiche che ben conosciamo, e da tedeschi, dopo aver, e gli svizzere hanno fatto la stessa cosa, dopo aver avuto centrali nucleari per una cinquantina d'anni, hanno tirato una riga, hanno pensato se fosse il caso di continuare o meno, e si è pensato che il bilancio rischi e benefici non valesse la pena e hanno deciso di chiudere. Qualcuno dice che c'è l'influenza dei verdi molto potenti, tedeschi verissimi, i verdi in Germania sono stati un partito molto importante, però in realtà questa scelta è stata fatta quando il capo del governo era la Merkel, che non era esattamente una verde. quindi è stata una decisione politica scelta con una vasta maggioranza, soprattutto dell'opinione pubblica, che è contraria a questa tecnologia. Quindi questi due grandi paesi hanno fatto due scelte opposte e nel frattempo, e questo lo dico senza nessun problema, che nel frattempo la Germania continua a tenere aperte centrali a carbone e a limite in particolare, che è il carbone che ci sia, perché la limite ce l'ha, la centrale si trova nella zona vicino al confine con l'Olando, sono siti che ho visto, l'ho vista quella centrale è un posto terribile e io penso che forse potendo scegliere dieci anni fa, dovendo scegliere se chiudo una centrale a carbone o una nucleare, visto che la nucleare era già lì, forse dovrebbe stato meglio chiudere quella limite, ma insomma loro hanno preso questa decisione e la stanno portando avanti e la buona notizia è che la stanno portando avanti con coerenza, perché è vero che la Germania in crisi economica profonda se volete possiamo anche parlare e questo ha altre origini, essenzialmente il venir meno del gas russo a basso costo, ma sta di fatto che la Germania l'anno scorso nel 2023 ci sono dei dati ufficiali ha prodotto il 55% della propria elettricità da rinnovabili, quindi l'obiettivo di arrivare all'80% al 2030, al 2035 non è più una cosa considerabile irraggiungibile, perché stanno continuando a una velocità molto superiore a quella italiana installare eolica e fotovoltaico, quindi è probabile che a quell'obiettivo non ci si vada molto lontano, quindi hanno sì, chiuso il nucleare, ma hanno spinto veramente sulle rinnovabili. Questa stessa cosa vale forse anche per la Spagna, penso che è un contributo molto importante del rinnovabile nel caso sull'oro particolarmente penso anche l'eolico. Esattamente, la Spagna è una grande potenza eolica, le centrali nucleari spagnoli sono vecchissime, direi decrepite e hanno pensato bene che avendole provate, avendo visto la tecnologia in funzione, anche loro hanno fatto la scelta di chiudere e non mi si venga a dire che tutte queste scelte sono state fatte sulla base dell'ignoranza e della paura, semplicemente hanno tirato una riga, hanno fatto anche due conti e hanno visto che... Tra l'altro la Germania ha avuto anche dei problemi con le scorie perché almeno quello che so è che loro pensavano di stare tranquilli con le loro vecchie miniere di Salgemma e non so se questo argomento l'hai approfondito. Sì, una miniera di Salgemma l'ex Germania orientale doveva diventare uno dei depositi per le scorie d'alta attività poi si è visto che in realtà non era un cittadazzo dal punto di vista geologico perché c'erano infiltrazioni d'acqua che non si pensavano si fosse in realtà sapendo di dovere già gestire questo problema non è il caso hanno pensato bene che non sia il caso di aggiungere come dire cazzo fuoco cosa contraria rispetto all'Italia dove c'è un avvago pensiero molto vago e molto superficiale dopo approfondiamo questo tema sul creare quando ancora non abbiamo risolto il problema delle scorie che abbiamo prodotto 60 anni fa e le nostre scorie d'alta attività dovranno tornare in Italia a breve e dovremo trovare questo sito questo deposito nazionale che è una storia molto lunga ma la sessantina dei siti che sono stati individuati come idoni nessun comune si è fatto avanti quindi anche questo deve farci riflettere certo senti nel film di Stones si accende è molto diciamo accentuato il tema in effetti non se la sente dire i rinnovabili non funzionano quello che dice però i rinnovabili hanno questo andamento discontinuo i consumi energetici invece sono continui e quindi anche per questo come dire bisogna in qualche modo ritornare a aumentare il nucleare proprio perché i centrali nucleari producono elettricità 24 ore su 24 giorni e notte d'estate e d'inverno su questo cosa è corretta questa cosa questa è la tipica osservazione che viene fatta quando non sa più cosa dire perché dal punto di vista economico è evidente sotto gli occhi di tutti che la questione non sta in piedi dal punto di vista della sicurezza sì sono impianti sicuri fino a prova contraria nel senso che gli incidenti che non dovevano accadere sono accaduti tutti quanti il fattore umano l'usura in qualche modo e la catastrofe naturale e da ultimo Zaporizia per ora non è successo niente ma il rischio guerra il rischio che un impianto si trova in un teatro di guerra quindi le biangere viste tutte non doveva succedere niente è successo tutto quindi questo è il punto diciamo di partenza per venire la tua domanda me la ripeti scusa perché ho fatto no era il fatto appunto come le rinnovabili intermittenti le aree giorni e notte funzionano ma secondo me c'è una debolezza che Oliver Stone non si è dimenticato sbaglio ecco se tu fai un documentario su un tema secondo me non ti puoi permettere di essere così superficiale cioè io questa osservazione che fa Oliver Stone mi va se la facciamo due chiacchiere tra amici una serata a cena dice ma sai le rinnovabili sono intermittenti eccetera allora prima cosa se noi prendiamo solare fotovoltaico c'è un bellissimo diagramma che ha pubblicato Ember recentemente si vede che dal punto di vista stagionale eolico e fotovoltaico sono perfettamente sono perfettamente complementari cioè il picco del solare è in estate fine primavera inizio estate e diminuisce in autunno e in inverno mentre il picco dell'eolico europeo se quello si riferisce all'Europa è esattamente il contrario quindi in realtà eolico e fotovoltaico sull'Europa forniscono una quantità di baseload non indifferente proprio per la loro complementarietà questa è la prima cosa che va detta ma la cosa più importante è che Oliver Stone quando fa questa osservazione quando le persone fanno questa osservazione pensano che la rete sia quella degli anni 80 è questo che non è più concepibile come come modello cioè se noi pensiamo come negli anni 80 e non mi stupisce che chi pensa che il nucleare ad affissioni sia una buona soluzione ha ragioni come negli anni 80 certamente le rinnovabili non sono sufficienti ma bisogna informare le persone che ci sono milioni milioni di produttori consumatori oggi iniziare da me mi sto parlando collegato alle batterie del mio fotovoltaico che oggi è prodotto 40 kilowattora stiamo andando a fotovoltaico e anche il film di Oliver Stone ieri sera l'ho visto a fotovoltaico e mi scappavo un po' da ridere pensare che mentre lui diceva che olico e fotovoltaico non ce la facevano io mi stavo guardando il suo film con l'eolico scusate con il fotovoltaico e con le batterie mentre le centrali nucleari sono di là da venire in Europa abbiamo ben due cantieri in tutta Europa sul nucleare e vabbè e appunto l'idea è quella che siamo agli anni 80 ma non è più così cioè oggi abbiamo milioni di produttori consumatori e la rete è completamente evoluta e sta evolvendo completamente cioè la rete fra 20 anni quando ci sarebbero le eventuali nuove centrali nucleari italiane sarà una rete talmente evoluta adesso lo descrivo brevemente e sì forse è meglio e quella che quel tipo di modello sarebbe completamente come un elefante nella cristalleria cioè gli anni 80 facciamo riferimento a quello potremmo dire 70-60 come era il sistema elettrico avevamo poche grandi centrali di potenza nucleare carbone gas petrolio all'epoca ce n'erano tante che producevano enormi quantità di energia si contavano sulle dita di poche mani in un paese ok parliamo di qualche decina di impianti che mettevano grandi quantità di elettricità in una rete completamente stupida che era solo in grado di prendere questa elettricità funzionava così quindi dal grande verso il picco con l'avvento delle rinnovabili con la produzione con l'autoproduzione ci sono milioni di produttori come me e probabilmente come qualcuno di voi che producono se volete vi do i dati di oggi comunque ieri ho prodotto 40 kilowattora me ne sono serviti 16 io ieri ho messo 24 kilowattora in rete che sono stati utilizzati certamente perché in realtà le comunità energetiche esistono già anche se non lo sappiamo cioè la mia elettricità non è che è andata a finire in Giappone l'avranno usata per ragioni di gestione della rete di cabine secondarie i miei vicini di casa quindi la rete sta andando in quella direzione ci saranno milioni di produttori consumatori la rete sta andando a gestire questo sta diventando sempre più intelligente e la rete sarà integrata dagli accumuli non solo gli accumuli individuali come il mio ma gli accumuli di grande potenza e se voi andate a vedere trovate tante informazioni tecniche in rete sugli accumuli di grande potenza che sono installati in Australia in Texas in California in Cina e stanno arrivando anche qui già il GSE il Tern ha lanciato le aste per questo tipo di attività e quindi la rete sta evolvendo in una direzione che non vuole centrali di grande potenza e soprattutto il punto chiave è questo l'idea della rete fatta con poche grandi centrali di potenza che vanno verso l'utente finale è una rete che è basata sulla domanda cioè io ho una domanda sono un imprenditore X io voglio adesso 100 megawatt punto e questa cosa non si discute ecco in questo mondo così flessibile così fluido questo concetto sta cambiando completamente noi stiamo andando verso una rete che è basata sull'offerta quindi dovrà la produzione la domanda dovrà seguire continuamente l'offerta disponibile che avrà anche qualche oscillazione di tipo stagionale di tipo giornaliera compensata dalle batterie e da tutto il resto quindi noi andiamo verso un sistema sempre più flessibile nel quale i componenti e i consumatori saranno parte di una rete intelligente dove la offerta viene gestita faccio un esempio molto concreto tempo fa sono andato a parcheggiare l'aeroporto dovevo fare un viaggio di lavoro e ho parcheggiato nell'aeroporto di Bologna e lì ci sono pure se è un aeroporto piccolo ci sono centinaia forse migliaia di automobili contemporaneamente ok sempre poi si cambiano uno va via l'altro arriva ma ci sono sempre quello lì un domani quando tutte le auto saranno elettriche a batteria sarà una enorme batteria per la città di Bologna sempre disponibile e ogni appunto entità elettrica che consuma che adesso noi vediamo solo come un consumo oggi l'auto elettrica è solo una cosa che uno attacca la presa e preleva ma un domani si sta già andando in quella direzione dell'auto elettrica sarà una batteria una power bank diffusa l'auto è ovunque che sosterrà la rete su tutto un paese cosa vuol dire la gente dopo inizia a pensare ah vuol dire che io vado a lavorare quindi do la mia elettricità quando arriva alla rete quando arriva la sera che devo andare a casa la macchina scarica no non è quello il concetto il concetto è che tu hai un certo una certa quota mettiamo il 10 il 20% della tua batteria che mentre tu sei al lavoro e mentre magari stai caricando anche la macchina durante le giornate come oggi soleggiate tu puoi cedere incassando pure qualche soldino parte l'elettricità della tua batteria alla rete perché a mezzogiorno c'è una domanda di picco che a te non serve perché in quel momento la macchina è ferma di che tu puoi cedere alla rete cioè la rete sta diventando questo ho fatto solo questo esempio e ne potrei fare altri in un sistema dominato dall'offerta sempre più flessibile sempre più digitale dove ci sono tanti centri di produzione e di consumo un mastodonte una centrale nucleare da 1600 megabatt tra 20 anni non ci sta a dire niente e questo è la cosa che le persone non capiscono e anche Oliver Stone o non sa o non ha capito la rete tra 20 anni non sarà in grado di accettare una centrale nucleare chiaro questo senti un altro tema che secondo me Oliver Stone ha trascurato prendo un attimo la luce perché vedo che mi sto abbuiando ecco qua sempre sempre fotovoltaico sempre fotovoltaico bravo senti no dicevo Oliver Stone la questione delle scorie tende a minimizzarla non so se anche tu concordi in particolare la cosa che mi ha colpito è che lui faccia vedere i tempi di dimezzamento dagli odio 131 che dopo 8 giorni si dimezza intanto se per cortesia ci spiego un attimo questa storia dei tempi di dimezzamento di questo particolare radiosotopo ma anche di quegli altri che secondo me sono quelli più importanti anche Maggio secondo te sono quelli più importanti che però di cui Stones fa finta che non ci sia come problema come è la questione? quando noi andiamo a spaccare l'atomo di uranio quindi il processo di fissione si formano degli atomi più piccoli si forma Krypton si forma Vario e tanti altri perché dentro la reazione che viene gestita in maniera controllata cioè ridotta con un flusso di neutroni ridotto in modo che non ci sia un processo che poi porta all'esplosione quello che c'è nelle bombe lì il processo è controllato ma alla fine dopo che queste barre di combustibile che sono uranio 235 che è il 7% dell'uranio naturale anche di questo stunto dice nulla zero dopo ne parliamo uranio 235 nelle barre viene appunto fissionato e da lì si creano tante altre specie tra queste specie che si formano quelle più a rischio ce le ricordiamo noi anziani abbiamo vissuto abbiamo insomma io allora era un ragazzino comunque all'epoca di Cernobyl me la ricordo ancora bene il nostro incubo era lo stronzio 90 e il cesio 135 137 e perché perché questi radiosotopi hanno dei tempi di dimezzamento delle decine d'anni circa 30 anni quindi siccome se ne formava una quantità abbastanza importante siccome tendono a fissarsi nell'organismo umano ad esempio il cesio può andare a sostituire il calcio nelle osse eccetera erano sono considerati particolarmente pericolosi di questo lui non ne parla quando i russi sono arrivati a Cernobyl hanno appunto invaso quella parte del nord dell'Ucraina che poi dopo per poi andarsene via vi ricordate che fece scalpore il fatto che avessero scavato delle trincee tornano alla centrale e non fu una grande idea perché andarono a smuovere quei terreni ancora fortemente contaminati e probabilmente molte persone si contaminarono di cesio 137 stronzio 90 perché appunto hanno dei tempi di dimezzamento di 30 anni sono passati 35 anni una quarantina d'anni e quindi il problema è ancora lì poi sì lo iodio si decade in pochi giorni poi ci sono degli altri radiosotomi in quantità sempre minori che decadono in tempi più lunghi uno dei problemi fondamentali di cui anche qui sto parole zero la parola plutonio non mi sembra che sia stata citata potrei sbagliarmi ma non mi sembra che sia stata citata l'uranio 235 si fissiona però anche l'uranio 238 che è diciamo la maggior parte dell'uranio che sta nella barra che non serve per la reazione nucleare però sta lì si può beccare un neutrone ed essere convertito con una serie dei processi a catena in plutonio in plutonio 239 e quindi il plutonio ha un tempo di dimezzamento di migliaia di anni ma di decine di migliaia di anni ma soprattutto è un elemento estremamente tossico il plutonio è la cosa più orribile che l'umanità abbia mai generato l'opinione è un po' quello che dice anche Stone ma ne vengono le quantità sono piccole se noi mettiamo insieme le scorie nucleari di tutto il mondo in un punto andiamo a riempire non so mi sembra che dica un grande centro commerciale una roba del genere a parte che vorrei andare a vedere se può piovere ma comunque il volume effettivamente è piccolo ma probabilmente chi non è chimico non si rende conto del fatto che non sono solo le quantità a fare le cose voi sapete per esempio che uno degli incubi ricorrenti è che ti mettono il cianuro nell'acqua che ne basta le quantità infinitesime per farti fuori ok allora il plutonio ha questo problema che può essere separato è stato separato soprattutto dalla Gran Bretagna per farne delle bombe nucleari la bomba di Nagasaki era una bomba del plutonio quindi le scorie nucleari il plutonio in particolare aprono la strada la possibilità di fare delle armi nucleari pensate che nel 1977 se ricordo bene il presidente Carter decise che gli Stati Uniti non avrebbero più riprocessato combustibile nucleare per evitare di aumentare la proliferazione nucleare il rischio di proliferazione nucleare poi altri ci sono succeduti non so dieci presidenti nessuno ha mai tolto questo bando cosa che invece il Regno Unito ha fatto e oggi si stima che nel Regno Unito ci siano circa 160-180 tonnellate di plutonio separato che è un'eredità molto difficile e complessa da gestire è verissimo che 160 tonnellate sono una quantità piccolissima ma se usa lo stesso metro devo dire che siccome la dose carcinogenica umana è un microgrammo lì ci sono milioni di dosi carcinogeniche per ogni essere umano presente sulla fassa della Terra questo spiega un altro fatto perché quando un paese che diciamo non ci piace lo riteniamo pericoloso come l'Iran arriva alla possibilità di arricchire l'uranio per loro dichiarano scopi civili ma i nemici gli dicono no tu lo vuoi fare per scopi militari intervengono e una volta addirittura l'Iran un sito nucleare iraniano fu bombardato da Israele perché ritenevano che da quel sito avrebbero potuto fare una bomba al plutonio e colpire Israele quindi il punto è uno dei punti che Stone non cita mai poi ne possiamo trovare degli altri nella discussione quando tu inizi a parlare di nucleare ti vai sempre a infilare dentro un potenziale problema molto serio e non puoi fare finta di niente non puoi non dire che c'è il problema del plutonio nella questione della gestione degli armi nucleari tant'è che gli Stati Uniti hanno fatto quello che hanno fatto che dicevo prima le quantità sono piccole ma il rischio è talmente elevato che va preso seriamente in considerazione perché noi non viviamo questo è il punto chiave noi non viviamo in un mondo ideale dove sono tutti buoni e tutti bravi noi viviamo in un mondo reale e una tecnologia che sulla carta sembra una soluzione perfetta produce grandi quantità di elettricità in un sito limitato senza mettere CO2 in fase di produzione poi la vai a mettere nel mondo reale e nel mondo reale diventa un ginepraio di problemi il primo non l'ultimo e neanche forse uno dei maggiori è proprio quello del fatto che tu con quella tecnologia apri la porta alla possibilità di creare armi nucleari e questo non è una cosa simpatica bene ti ringrazio mi pare che comunque è molto utile ripassare un po' questi concetti anche perché non so bene se le nuove generazioni hanno la stessa consapevolezza che abbiamo acquisito noi appunto in tutti questi anni ti dici una cosa per far capire quanto lasci nel segno queste cose il paese più antinucleare che c'è in Europa sapete qual è? è l'Austria perché? perché l'Austria fu molto colpita dal disastro di Cianobi perché i venti dominati la punirono molto in quei giorni e quindi il nucleare è rimasto una cosa che ha scioccato quella nazione e pensate che l'Austria insieme a mi pare a Lussemburgo vuole portare la Corte di Giustizia europea la Francia e il gruppo dei nucleari perché vogliono mettere hanno messo vogliono mettere in parte hanno messo il nucleare nella tassonomia quindi per dire che quando tu sei colpito direttamente e questo è un messaggio che si dà soprattutto ai giovani che non hanno vissuto queste situazioni si ottengono bene a mente l'Austria che uno penserebbe l'Austria sicuramente detto banalmente ti dovrebbe da dire che è un popolo evoluto tecnicamente e vuole il nucleare no sono i più accesi antinuclearisti e c'è un motivo molto vero perché l'hanno toccato con mano cosa può voler dire bene senti l'ultima domanda riguarda un po' tu ti stai occupando del problema dell'energia hai scritto questo bel libro L'Astronave Terra appunto come dire uscirà la quarta edizione questa ultima lo leggeremo magari ti rinviteremo a parlarne perché il tema in effetti delicato e su cui volevo appunto il tuo parere era allora abbiamo capito le regole rinnovabili che erano state screditate tra l'altro proprio durante quel periodo del referendum si diceva è una sfida invincibile quella del nucleare rispetto alle leoniche e quant'altro dopo do qualche numero su questo sì sì ma sappiamo l'hai già accennato ma abbiamo capito che non è così però la domanda che vorrei farti che ti faccio è questa ma allora abbiamo un mondo in crescita con popoli come quelli l'India la Cina l'Africa che aspirano a qualità della vita migliore di quanto non abbiano avuto fino a tempi recenti e allora le energie rinnovabili ce la faranno a fornire una quantità di energia sufficiente a tutta la popolazione mondiale nei prossimi anni e anche negli anni a venire perché poi chiaramente abbiamo di fronte io mi auguro come umanità ancora qualche decina di migliaia di anni di sviluppo delle civiltà ce la faranno le energie rinnovabili a fornire appunto uno standard di vita accettabile a quanti miliardi di persone agli attuali e ai futuri che eventualmente ci saranno qual è la tua visione insomma qual è la tua idea che ti sei fatta e che possibilità ci sono secondo te uno dei concetti validi che a mio parere c'è nel film di Stone è proprio questo cioè bisogna elettrificare il più possibile lui fa anche vedere a un certo punto la casa elettrica degli anni 50 molto carino non lo conoscevo che l'aspetto perché bisogna elettrificare il più possibile perché oggi negli usi finali quindi le energie che usano le persone nella loro vita nei paesi avanzati Europa Stati Uniti il 75% sono combustibili e solo il 25% è elettricità nel mio caso è maggiore perché ho la casa tutta elettrica con l'auto elettrica quindi sicuramente nel mio caso adesso ci farò due conti molto più precisi sarò sicuramente verso non so 50-60 ma nelle persone perché poi consumo combustibili quando prendo un aereo prendo un autobus prendo eccetera vado al lavoro che è scaldato a metano in un elettrico come a casa mia vado al supermercato eccetera e quindi non sono ancora al 100% elettrico però l'idea è quella perché perché i motori elettrici sono molto più efficienti dei motori termici quindi dobbiamo elettrificare il più possibile quindi serve grande quantità di elettricità che appunto Stone poi nel suo fine dice deriverà bisognerà bisogna che derivi dal nucleare ecco quindi noi dobbiamo elettrificare quanto più possibile cose innanzitutto i trasporti quindi i treni vanno già bene hanno già fatto una parte del loro compito ma sotto il resto siamo indietro sotto il resto l'auto elettrica in Italia è ai livelli più bassi come vendita in tutta Europa siamo indietro la Romania la Lituania e la Bulgaria questo per dire quanto è avanzato questo paese ecco bisogna elettrificare i trasporti che non vuol dire prendere il parco auto attuale di 40 milioni di macchine termiche e fare 40 milioni di auto elettrico perché non è quello il concetto questo l'ho detto l'ho rispiegato in miei lezioni perché se l'idea è quella allora non andiamo da nessuna parte in Italia ci sono troppe macchine e quindi bisogna avere meno macchine e quelle che abbiamo bisogna che vada nell'elettricità prodotta da rinnovabili poi c'è tutta la parte del riscaldamento tutta la parte del riscaldamento noi oggi in Italia consumiamo circa 25 miliardi di metri cubi di gas per riscaldare edifici una quantità spropositata io riscaldi in questa casa con una pompa di calore elettrica che ha un'efficienza che è 4-5 volte superiore all'uso del metallo come efficienza e tra l'altro costa anche molto meno anche perché me ne autoproduco in gran parte bisogna andare in quella direzione poi c'è tutta la parte difficile da decarbonizzare che è l'industria e molto si può fare e il trasporto pesante a lunga distanza non sto a aprire queste parentesi ognuna delle quali meriterebbe una, due anni o le direzioni però diciamo che stiamo andando nella strada giusta verso i trasporti leggeri il riscaldamento residenziale possiamo andare di più verso l'industria il trasporto pesante sarà una delle fasi più critiche anche se si cominciano a vedere giustamente molti autobus a batteria nelle nostre città quindi bisogna elettrificare detto tutto questo tu citavi la Cina lasciatemi dare un numero per far capire come anche il messaggio di Oliver Stone in quel film sia fuorviante perché ha raccontato che la Cina sta galoppando sul nucleare che produce grandi quantità di carbone che è vero ma in realtà la Cina è il più grande produttore di elettricità rinnovabile vi do questi numeri l'anno scorso la Cina ha installato nuova potenza nucleare per 1,2 gigawatt cioè 1200 megawatt sostanzialmente una centrale che corrisponde a circa 8 terawattora di produzione l'anno scorso la Cina in un anno ha fatto 230 gigawatt di olio più fotovoltaico ho detto che di nucleare è stato 1,2 1,2 versus 230 230 di olio più fotovoltaico sono 400 terawattori di elettricità quindi per ogni elettrone nucleare nuovo che è stato messo nella rete elettrica cinese nel 2023 sono entrati 50 elettroni rinnovabili da fotovoltaico ed eolico quindi non è vero non è vero che la Cina sta andando in quella direzione la Cina ha fatto 57 gigawatt di nucleare dal 92 ad oggi 57 e ha fatto 230 gigawatt di eolico più fotovoltaico solo l'anno scorso questo per farvi capire quanto la Cina abbia capito dove va la transizione energetica abbia capito che in alcuni contesti essendo un paese grande essendo un paese dove uno decide le cose si fanno non ci vogliono vent'anni ce ne vogliono cinque farà qualche centrale nucleare ma certamente la Cina sa già oggi come lo sa l'agenzia internazionale per l'energia che ha detto che bene che vada nel 2050 il nucleare peserà quanto oggi nel portafoglio elettrico mondiale il che vuol dire che la produzione calerà non sarà destinata ad aumentare in maniera clamorosa anzi peserà come oggi e quindi la direzione chiara non è quella del film di Oliver Stone dove le rinnovabili sono state snobbate perché il mondo sta andando esattamente nella direzione opposta ed è stupefacente io non so quel film chi l'abbia sponsorizzato mi stupisce il fatto che sia gratuitamente accessibile quindi immagino che i sponsor importanti li abbia avuti perché non tutti i film di Oliver Stone sono accessibili gratuitamente a tutti ma il mondo non sta andando nella direzione raccontata in quel film e questo devo dire è parecchio fastidioso permettetemi il termo va bene senti allora niente qui vediamo ci sono un po' di domande da parte di chi si sta seguendo in rete chiedo a Maria Teresa di raccontarci appunto di girare a te le domande che abbiamo già ricevuto sul produttore del film lo trovi in rete è un fisico in questo momento mi sfugge il nome che ha messo su una start up e lavorava con Rubia prima lavorava con Cern al Cern con stai parlando stai parlando di Stefano Buono esatto quindi l'ha pagato lui per film è lui il produttore del film ah interessante non lo sapevo si lo conosco Stefano Buono al film festival di Torino l'ha presentato ok si non mi sono se volete vi racconto chi è Stefano Buono interessante perché siamo andata a vedere appunto chi era questo personaggio si si Stefano Buono è un grandissimo scienziato che ha lavorato nel settore nucleare da tantissimo tempo e anche un grande spirito imprenditoriale lui ha fondato una azienda che si chiama Nucleo che ha sede a Torino il cui obiettivo è quello di arrivare a produrre reattori di piccola scala di quarta generazione in particolare raffreddati al piombo fuso non sto entrando in questi dettagli comunque è un tipo di raffreddamento diverso e il loro obiettivo è raggiungere la produzione entro il 2030 io ho parlato ho fatto anche una discussione con lo responsabile tecnico all'università di Torino che è online tra l'altro e lì ha spiegato molto bene come stanno le cose e in realtà questo progetto non è così vicino come viene raccontato e ancora non c'è la certezza che questi piccoli reattori al piombo fuso saranno diciamo la soluzione disponibile e pronta fra qualche anno tra l'altro questi reattori uno dei vantaggi sarebbe che utilizzano combustibile esausto come gli ASMR stai parlando degli ASMR no si sono ASMR questi sono ASMR per cui utilizzano combustibile MOX quindi ossidi misti di uranio e plutonio e a mia precisa domanda Daniele Tomatis che è uno dei responsabili scientifici dell'azienda l'ho trovato in rete questa diciamo chiacchierata che abbiamo fatto insieme ha detto che l'obiettivo primario contrario a quello che si dice in Italia non è arrivare a vendere questo tipo di centrali a un paese come l'Italia che non ha impianti e quindi non ha scorie ma eventualmente cominciare a vendere alla Francia che ha invece questo problema e al Regno Unito però lui stesso ammette che ci sono ancora tante difficoltà da superare e si vedrà se questa impresa arriverà in fondo sottolineo che l'unica azienda che tra l'altro è citata velocissimamente nel documentario perché secondo me c'era qualcosa di più quello che ha tolto che è New Scale che è un'azienda americana che aveva avuto la licenza di produrre un reattore di piccola taglia SMR da 50-80 MW in realtà ha dovuto rinunciare al progetto dicendo che non ci sta dentro coi costi e New Scale ha avuto un tracollo in borsa a novembre mi sembra e adesso si trova in forte difficoltà quindi anche al momento le promesse di questi reattori di piccola generazione in questo caso di questa azienda americana trovate dei commenti molto approfonditi anche dal punto di vista economico del perché questa cosa è fallita non sta andando bene cioè l'entusiasmo di 12 mesi fa a novembre è crollato notevolmente quindi anche lì tutta la faciloneria di presentare questa soluzione che è la parte finale del film con una soluzione già pronta è una faciloneria che fa molto riflettere cioè non è in realtà così è un sogno che loro hanno quello di arrivare a questa possibilità ma uno dei problemi e questo anche questo l'ho discusso a suo tempo a Torini in quell'occasione se io invece di fare 4 reattori da 1 gigawatt devo fare 40 reattori da 100 megawatt poi devo trovare 40 siti non ne devo trovare 4 quindi capite che cioè di nuovo torniamo alla questione del mondo reale quindi sulla carta è tutto facile in pratica queste cose non ci sono cioè se voi volete comprare un piccolo reattore modulare adesso non sono che lo vende e soprattutto c'è tutto un iter autorizzatorio che non c'è manca tutta la parte autorizzatoria perché la gestione di reattori nucleari diciamo come vengono presentati anche nel film nel tessuto urbano cioè è una roba che non è che è come mettere una pompa di calore ok? ho 40 situazioni di rischio di contaminazione radiattivo in giro per le città in giro per i territori la faciloneria con cui viene presentata questa cosa a me come scienziata è la cosa che mi dà più fastidio è sì il fatto che sia tutto semplice è tutto già fatto e il messaggio che passa in quel film è un po' quello che è tutto fatto un'altra cosa mi viene in mente perché avevo segnato alcuni punti quando si dice cambia un po' argomento rispetto agli ASMR e subito dopo ci torniamo quando si parla di Chernobyl si dice ci sono stati 56 morti va bene forse c'è stato qualche migliaia di morti successivamente forse sì grandi battaglie tra OMS IAEA eccetera ma lasciamo perdere queste discussioni il vero problema e questo ci sono studi approfonditi che lo dimostrano non sono i morti diretti ma sono il fatto che c'erano centinaia di migliaia di persone che avevano un'area questo vale per c'erano migliaia per poco di cima che dalla mattina alla sera è diventata un'area contaminata e questo ha un impatto psicologico micidiale sulla testa delle persone c'è stata un'impennata dei casi di alcolismo e di suicidi in questi territori dove ci sono stati grandi due grandi incidenti perché le persone hanno paura di essere stati colpiti dalla dose di radiazione perché è una cosa invisibile quindi automaticamente le persone hanno paura è inutile che vogliano farla morale alle persone che sono ignoranti la radiazione nucleare è invisibile la radiazione elettromagnetica ad alta energia è invisibile e quindi fa automaticamente paura e quindi queste persone temono di avere una sorta di bomba orologeria nel proprio corpo che prima o poi scoppierà primo secondo i prodotti agricoli di quella zona non li vuol più nessuno quindi tutte le attività agricole sono saltate le attività industriali pure e le attività turistiche pure perché ormai quei luoghi hanno uno stigma che non glielo togli più quindi le vere conseguenze di questi grandi incidenti che non dovevano esserci lo sottolineo di nuovo ma ci sono stati e di questo non possiamo far finta di nulla su questo non possiamo far finta di nulla hanno creato delle conseguenze soprattutto di tipo psicologico nelle persone al di là dei morti diretti a me la discussione su quanti morti diretti sono state per quanto tragica mi fa un po' sorridere perché in realtà bisogna andare a vedere tutto il resto e di nuovo c'è la semplificazione la semplificazione nel nucleare è il cancro nel nucleare e quindi semplificare sempre tutto è proprio il modo in cui chi sostiene questa tecnologia la sta uccidendo le persone serie io ne conosco tanti che lavorano in quel campo e che sono a favore sono i primi a sapere che è una tecnologia complessa e che cercare di venderla come si vendono le pentole non va bene perché è esattamente la sua condanna senti Maria Teresa allora c'erano parecchie domande ha iniziato Giordano con una serie allora vediamo la prima domanda diceva ciao Nicola non è proprio perché c'è un è il legame tra nucleare militare e nucleare civile a cui tu accennavi e lui dice non è proprio per questo che tanti governi non vogliono mollare ma sì certamente il governo francese lo ha detto esplicitamente quindi la Francia non vuole mollare perché questa filiera ha un suo interesse strategico generale per l'economia e per la difesa di quello Stato assolutamente la Germania ha mollato anche perché non avendo una filiera militare è molto meno legata quindi per lei abbandonare il nucleare è stato molto più facile per la Francia non lo è assolutamente così le scorie italiane di 60 anni fa adesso dove sono? e quali cose si stanno facendo? dove le mettiamo? allora ce ne sono in parte presso diciamo vecchi siti nucleari ci sono in parte a Frascati a Casaccia ce ne sono un po' sparse in giro cioè sono sparse dentro a dei magazzini in condizioni diciamo non di sicurezza estrema io ricordo ci fu un servizio televisivo mi pare che fossero le Iene se non ricordo male che volarono con un aereo sopra il sito nucleare che c'è in Piemonte che è in prossimità della 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 Dora mi sembra della Dora Baltea se ricordo bene comunque loro stavano viaggiando in una zona che era no fly zone e faceva vedere con quella lo trovate ancora in rete faceva dire io adesso sono qui con un elicottero adesso non ricordo un aereo piccolo adesso dovrebbe arrivare un aereo militare ad abbattermi ok quindi questo per far capire che in Italia c'è un rischio serio ci fu una lettera di rubia tanti anni fa che fece presente al governo che quel sito era pericolosissimo perché in caso di alluvione quella tutta quella roba sarebbe finita nel Po e avrebbe creato una devastazione in tutta la pianura padana perché avrebbe contaminato buona parte della pianura padana quindi senza fare tanto terrorismo ma la situazione è piuttosto seria il sito italiano non c'è ed è un problema il sito italiano va fatto sia chiaro che va fatto il deposito nazionale perché noi non possiamo più permettersi di tenere sta roba sparsa in giro in maniera diciamo non non vorrei dire alla Carlona perché insomma ci sono persone che se ne stanno prendendo cura eccetera però certamente non in condizioni ottimali quindi il destino qual è? il deposito nazionale dovrebbe essere più o meno fatto così si prendono queste scorie vengono vetrificate è già stato fatto questa processazione all'estero Regno Unito e Francia devono tornare in Italia entro il 2025 quindi ce le ridanno noi poi queste saranno dentro dei bidoni che poi verranno messi dentro dei contenitori metallici rettangolari che poi verranno a loro volta chiusi e a loro volta messi dentro un altro sarcofago di cemento a sua volta coperto con della terra ok quindi sarà una sorta di matrioska dove dentro c'è questo rifiuto e avrà una determinata aree se andate sul sito della Sogin lo trovate c'è un bellissimo video che fa vedere tutta la processazione che dovrà essere fatta con macchine automatiche eccetera tutto questo ancora non c'è perché non c'è? perché dei 62 siti proposti nessun comune ha detto lo faccio io non si è alzato nessuno ha detto si è alzato il sindaco di Trino Vercellese adesso mi è venuto in mente il sito che citavo prima dove viaggiavano sopra era quello Bosco Mare ma non ha importanza comunque lì in Piemonte ha detto io ho dei rifiuti nucleari tenuti male preferisco avere il deposito piuttosto che tenerli là così quindi si è fatto avanti un comune che però non rientra tra quelli selezionati dallo studio del governo commissionato dal governo perché è troppo vicino al Po quindi non è un sito adatto perché per il sito adatto deve avere una certa collocazione geografica lontano da letti di grandi fiumi ad altezza non superiore mi pare a 700 metri a distanza di un certo livello da zone densamente popolari cioè non è che tant'è vero che ne hanno trovati in tutto il territorio nazionale una sessantina concentrati tra Piemonte Lazio Toscana Sardegna qualcosa in Sicilia qualcosa in Basilicata ma nessuno si è fatto avanti questa è la situazione sempre Giordano dice stiamo parlando ancora di nucleare perché l'attuale governo continua a parlarne c'è stato un voto in Parlamento in questi giorni parlano di piccole centrali private che roba è direi che ne abbiamo qui dico una cosa perché ci ho fatto l'editoriale che citava prima Federico il punto è questo cioè il governo questa è la tipica situazione italiana cioè il governo si dichiara a favore del nucleare però il ministro Picchetto Fradino ha detto che prima non ci saranno grandi impianti secondo che lo Stato non ci mette una lira quindi dovranno essere i privati a investire non esiste una nazione al mondo in cui lo Stato per avere un piano nucleare non investa tantissimi soldi soldi che noi oggi non abbiamo perché abbiamo ben altri problemi rispetto quindi in realtà sia ben chiaro qui lo dico e poi tra dieci anni lo rivediamo questo piano è già morto nella culla se il governo non ci mette un euro questo piano è già morto per cui qual è la strategia parliamo di nucleare quindi facciamo di nuovo l'osteria che citavo all'inizio cioè parliamo dibattiamo ci azzuffiamo perdiamo gli amici nel senso c'è anche di questo questo dibattito un po' tossico a volte però alla fine cosa fa il governo decide di puntare ai reattori di piccola taglia che non esistono l'ho detto prima e alla fusione nucleare che è ancora più di là da venire quindi di fatto si dichiara parole a favore ma in pratica butta la palla in tribuna scusate questa è un po' la strategia che viene adottata attualmente dal governo e non mi sembra mi sembra abbastanza evidente cioè io francamente mi stupisco che qualcuno non si arrabbi di questo e qualcuno che vorrebbe un piano nucleare di questa sostanziale ambiguità ancora Giordano chiede se l'idrogeno può essere un realistico accumulo di energia da rinnovabili per compensare l'alternanza sì uno dei possibili usi dell'idrogeno uno di quelli diciamo razionali che io sposo in pieno è quello di contribuire alla stabilità della rete con accumulo di idrogeno prodotto nei mesi estivi che ne produrremo quando avremo 80 gigawatt 90 gigawatt di fotovoltaico non sapremo dove metterlo a mezzogiorno quindi dovremo produrre qualcosa da stoccare potremo produrre idrogeno da stoccare e utilizzare magari in inverno in centrali che sarebbero decarbonizzate quindi con delle turbine per bruciare l'idrogeno e produrre elettricità che non è una grande cosa molto efficiente ma per quello scopo può aiutare diciamo a contribuire alla alla stabilità del sistema della rete per produrre calore o elettricità il problema è che lo stoccaggio di idrogeno stagionale non sappiamo ancora come farlo cioè l'idrogeno stoccarlo diciamo l'opzione principale è quella di stoccarlo nel sottosuolo però stoccarlo nel sottosuolo è ancora una procedura che non è stata assolutamente standardizzata non l'avremo sì esatto le depositi geologici esatto esattamente sì però a differenza del metano l'idrogeno è molto più reattivo quindi il rischio ci sono stati fatti dei test che tu metti dentro 100 unità di idrogeno e dopo 3 mesi ne trovi 40 perché il restante 60 con la geochimica e la biochimica complessa del sottosuolo può essere letteralmente mangiato e Paolo invece chiede in Italia siamo all'ultimo posto ma si capisce abbiamo tutti la Ferrari e non possiamo rinunciare al rombo della V12 oltre a essere tutti allenatori di calcio torno a Giordano e ci chiede quali sono le grandi multinazionali che hanno interesse a fare nucleare magari anche in Italia dunque il quadro è piuttosto limitato perché in Europa abbiamo sostanzialmente ormai solo di Grossi e Def che è il colosso nucleare francese che è frutto del fallimento di Arevae della nazionalizzazione Arevae era un'azienda francese che è fallita sostanzialmente una decina da un ufo tutto è andato in capo a EDF Electricity de France che poi nel 2022 a causa dei problemi economici sostanzialmente era sull'oro del fallimento lo Stato la ripresa non è stato facile perché c'era il rischio che la Commissione Europea ti dicesse che era un aiuto di Stato alla fine siccome la situazione francese visto che il nucleare è tutto facile è tutto semplice la situazione francese è talmente delicata perché è un paese chiave dell'Unione Europea che basa il 70% della propria elettricità sul nucleare diciamo che hanno chiuso un occhio sugli aiuti di Stato nella circostanza e gli hanno detto ok fate pure però capite che quindi finisce lì oggi e questa è un'altra cosa forse di questo ha detto Oliver Stone ma non è stato secondo me sufficientemente cristallino su questo oggi dati IEA rapporto ultimo del 2022 su 31 reattori in costruzione nel mondo nel 2022 oggi probabilmente ce n'è qualcuno in più ma intanto diversi sono stati spenti 27 erano di tecnologia russa e cinese quindi i due colossi nucleari mondiali attuali non sono occidentali sono russi innanzitutto e cinesi il il colosso nucleare russo Rosatom questo è bene che tutti lo sappiano di questo non se ne è mai parlato non è stato sottoposto alle sanzioni ok zero si fa finta che il problema non esista in quel caso perché perché se su Rosatom vengono poste le sanzioni del più è il più grande colosso nucleare mondiale che produce il 40% delle barre di combustibile nucleare a livello mondiale nel giro di pochi mesi chiudono le centrali dell'Europa orientale e buona parte anche di quelle francesi e anche gli Stati Uniti si approvvigionano da Rosatom per il combustibile nucleare perché le barre di combustibile nucleare che vengono fatte vedere nel film di Oliver Stone non possono essere fabbricate da chiunque ci sono 3-4 aziende a livello mondiale che le fanno e il dominatore assoluto è Rosatom quindi attenzione perché le multinazionali del nucleare in realtà sono essenzialmente le aziende di Stato russe e cinesi allora uno mi dovrebbe anche spiegare una cosa se i russi non vanno bene per il metano e i cinesi non vanno bene per il fotovoltaico perché dovrebbero andare bene invece per il nucleare questo non ve lo spiega mai nessuno perché non sarebbe in grado di farlo non lo fa neanche Oliver Stone sono due domande più precisazioni di Marco che dice usare il carburante esausto sarà una soluzione solo di nicchia e non permette di conquistare il mercato dell'energia esattamente e lo stesso sull'idrogeno sfuggente meglio usarlo con metanatori e usare metano verde per stoccaggio e usarlo d'inverno il modello Shetour propone questo in ogni caso ci sono pesanti inefficienze sì il problema dell'idrogeno è che ci sono pesanti inefficienze e lì troverete diversi miei video lezioni ce n'è una all'Accademia delle Scienze di Torino sull'idrogeno e il problema dell'idrogeno l'idrogeno non c'è bisogna farlo e bisogna farlo bisogna comprimerlo perché ha dei volumi ingestibili bisogna compresso nelle automobili pensate che l'idrogeno è 700 bat cioè più di tre volte la pressione delle macchine a metano quindi giusto per dare l'idea della complessità oggi noi facciamo 120 milioni di tonnellate di idrogeno a livello mondiale che servono nella raffinazione e nella produzione di fertilizzanti quindi noi sappiamo fare l'idrogeno ma sapete qual è il punto che noi appena lo facciamo lo usiamo la grande quantità di idrogeno fatta è enorme è un grande paradosso l'idrogeno perché è uno dei prodotti chimici più fabbricati al mondo ma non ha un mercato se io me lo faccio non lo vendo lo uso subito perché mandarli in giro mi costa soldi mi costa rischi che io non voglio correre quindi fare l'idrogeno per poi dall'idrogeno metterlo dentro a delle molecole col carbonio tipo metano sì sulla carta si può fare tutto però con la termodinamica non possiamo lottare e quando le inefficienze sono troppo grandi tutto questo non ha più un senso quindi l'idrogeno a mio parere sarà importante per lo stoccaggio stagionale come ho detto prima non sappiamo ancora dove lo metteremo e probabilmente la cosa meno complessa da fare sarà bruciarlo in centrali termoelettriche durante l'inverno o eventualmente per produrre calore non mi una volta che l'ho fatto non starei poi a disfarlo e a rifarlo di nuovo perché a quel punto l'efficienza energetica è morta bene ci sono altre domande in pari di noi in chat non c'è altro va bene grazie allora chiudiamo qui ringraziamo prima di chiudere anche tu sì sì va per questa volta qualche altro punto che ah ecco se mi lasciate dire una cosa sei tempo e voglia volentieri prego allora la prima cosa è stato fatto vedere quei bellissimi video storici dove Eisenhower parlava dell'energia di sia il nucleare sia l'energia dei poveri cioè proprio ma neanche un po' cioè il nucleare avrà uno potrà trovare tutti i presi del mondo ma il nucleare nonostante adesso si dica che la Francia l'elettricità nucleare francese costa poco è perché lo Stato francese si è accolato tutti i costi di sussidio delle operazioni e tutti i costi di smantellamento che qualcuno prima o poi dovrà pagare e di cui facciamo sempre pinta di niente quindi in realtà l'energia nucleare non è l'energia dei poveri è l'energia dei ricchi delle nazioni che hanno grandi capacità tecnologiche e grandi soldi per sostenere un'operazione del genere che è sussidiata a tutti i livelli altro che le rinnovabili se andiamo a vedere i numeri la maggior parte dei sussidi ad esempio la ricerca energetica è nata al nucleare negli ultimi 50 anni poi un altro aspetto importante due aspetti importanti che non sono stati citati il primo è che il nucleare non inquina una fonte pulita che non inquina è stato detto varie volte ma le miniere di uranio secondo Oliver Stone cioè nascono sotto i cavoli non sono posti particolarmente salubri questa è la prima cosa e l'ultima con cui concludo è questa un'altra cosa che non è stata letta è quanto uranio abbiamo mi ha fatto finta di niente perché se parliamo di sole sappiamo che per 4 miliardi di anni abbiamo in abbondanza quando parliamo di elementi chimici minerali dal petrolio al carbone all'uranio le risorse non sono illimitate le grandi concentrazioni di miniere di uranio sono ormai state scoperte e si trovano in pochi paesi il più grande detentore e anzi venditore di minerali di uranio a livello mondiale è il Kazakistan che nel 2022 ha fornito il 43% dell'uranio minerale mondiale non c'è nessuna fonte di energia nessuna neanche il petrolio neanche il gas che abbia una concentrazione così elevata nella fornitura in un solo paese quindi quando si parla di nucleare autosufficienza energetica bisogna sapere che dipendiamo da Rosatom per la tecnologia e dal Kazakistan che è un paese sotto l'orbita russa per quanto riguarda la disponibilità di minerali di uranio in seconda posizione terza e quarta posizione sono Canada Australia e Namibia quindi è una risorsa estremamente concentrata e quanto uranio avremo a disposizione se noi andiamo a fare i conti di quanto uranio sono le risorse stimate attualmente e della crescita che Oliver Stone desidera per il nucleare costruire migliaia di reattori non abbiamo neanche l'uranio per fare questa cosa per cui questo argomento non a caso è stato completamente inutile se non appunto si racconta il fatto che useremo le scorie quindi poi usiamo quello per fare delle tecnologie che ancora non ci sono insomma per concludere la tecnologia nucleare dovunque ci giriamo che sia il rischio di proliferazione che sia il costo enorme della tecnologia che sia la disponibilità di uranio che sia l'impatto effettivamente ambientale a lungo termine che sia gli incidenti che non dovevano succedere che sono successi ci vanno sempre a infilare in una serie di problemi che non a caso da 70 anni stiamo discutendo il vero problema del nucleare che in 70 anni è una tecnologia che ancora non ha risolto i suoi problemi e il fatto che ci siano due tre reattori in costruzione in occidente la dice lunga e i numeri esponenziali di crescita delle rinnovabili e sostanzialmente lineari a livelli veramente bassi del nucleare che è sostanzialmente in crisi drammatica da 40 anni fanno vedere che per il nucleare non c'è possibilità di competere con le rinnovabili in qualche modo il fatto che abbia visto il film con l'elettricità erogata dalla batteria con il fotovoltaico della giornata un po' ha raccontato mi ha raccontato mi faceva riflettere durante la visione di questo film che per certi aspetti veramente è molto molto dell'udente ringraziamo ringraziamo tantissimo Nicola perché ovviamente sei stato diciamo illuminante chiaro come al tuo solito quindi sicuramente ti richiameremo per approfondire alcuni altri documenti di qui di Hoppik sentiamo Maria Teresa per i prossimi appuntamenti sì per correttezza devo dire che in chat ancora Paolo aveva scritto che in California la Shell pare che abbia chiuso tutti i suoi distributori di idrogeno pensati per il trasporto è vero verissimo la conferma di quanto la conferma di quanto dicevi tu mentre condivido per la prossima conferenza ringrazio tutti i partecipanti alla conferenza in particolare ringrazio soprattutto Nicola per la sua completezza e chiarezza che mi ha veramente entusiasmato perché io ho voluto queste conferenze per contrastare questo grande inganno di questo documentario ringrazio tutti i partecipanti e Christopher sempre che ci fornisce il collegamento Zoom e l'assistenza tecnica della registrazione e condivido con voi i prossimi appuntamenti la prossima conferenza che sarà il 17 aprile avremo con noi Mario Agostinelli fisico presidente dell'associazione Laudato Si quindi vi do appuntamento il 17 aprile e vi ringrazio ancora io ringrazio ancora Antonio Manti che ci ha dato una mano per la parte tecnica di questa quindi rinnovo il ringraziamento a Christopher Garaventa che è sempre molto attento e che curerà il montaggio e la messa in onda di questa trasmissione e ringrazio anche Carola Sessargo che ha curato quei bei grafici che avete visto e ci aiuta anche in questo modo a rendere più piacevole questo tipo di incontri che faremo alla prossima grazie ancora Nicola e arrivederci a tutti